Presidente Seracchiani, oggi la visita al porto di Monfaicone dove è stato fatto un po' il punto su tutti gli interventi che vengono effettuati? Sì, importante perché stiamo recuperando degli spazi, 37 mila metri quadri, stiamo lavorando su alcune questioni e criticità che da anni attendevamo. Se considerate che soltanto sono oltre 30 anni che si sta attendendo di buttare giù la casa del fanalista, oggi lo facciamo, recuperiamo spazi, mettiamo in sicurezza la banchina e soprattutto diamo la possibilità agli operatori di lavorare ancora di più. Poi alle mie spalle vedete ad esempio il barrieramento che è molto importante per consentire l'ingresso al porto di Monfaicone delle auto che sono uno dei commerci più importanti che stiamo realizzando su quest'area. Abbiamo atteso molto ma finalmente siamo riusciti a realizzarle. Poi ci sono altre opere che stanno andando avanti come questo piazzale dove ci troviamo e come tutti gli interventi sui raccordi ferroviari che sono la cosa più importante. Si determinerà un ring ferroviario intorno al porto di Monfaicone che lo renderà più efficiente, più moderno, più sicuro e questo è estremamente importante per chi lavora all'interno del porto e soprattutto ci permetterà di fare ancora più traffici. Stiamo parlando di interventi che superano abbondantemente i 10 milioni di euro. Sindaco di Monfaicone Cisinto, una giornata particolare oggi qui al porto di Monfaicone e in particolare una forte emozione per l'abbattimento della casa del fanalista. Ma diciamo che è un messaggio importante. Noi crediamo molto che questo sia un punto di partenza per riuscire a dare delle grandissime risposte a questa città, a questo territorio. È un porto che ha una dote importante, un milione e mezzo di metri quadrati di aree. Nel 2016 abbiamo fatto quasi 5 milioni di tonnellate. Riteniamo che Monfaicone sia in abbinamento a Trieste un trampolino di lancio per l'economia e l'occupazione di questa regione. È logico che riteniamo molto importante che però ci sia il riconoscimento della dignità di questa città che vuole esserci nei momenti e nei luoghi dove si decide dello sviluppo dei traffici, dei mercati e degli investimenti. Quindi entrare nel comitato di gestione oggi è più importante che mai. Ringrazio però per tutto quello che assieme riusciamo a fare, che le istituzioni e la regione in questo caso riescono a produrre perché questo io ritengo è il metodo corretto.